Grazie. Gentili signori, gentili signori, è così che il maestro Silvano Prati termina questa bellissima serata della inaugurazione della Taverna Verde. Il maestro, hanno accaduto per voi Nauro Maggiorani. E' una diviata. Il maestro Silvano Prati, la sua inchiesta, saluto a tutti, ringrazia e porto a tutti voi un appuntamento, un appuntamento alla prossima occasione. Ciao a tutti! Il maestro Silvano Il maestro Silvano